Allora, questa è la sala dei Pop James, guarda qui. In questo momento stanno lavorando al nuovo brano Rise Montura, che sentirete nel disco Super Power Super Quiet. Possiamo ammirare lì. Questa qua è il simbolo dei Pop James, disegnato da me. Di cui sarò molto fiero, è un logo che ha segnato, diciamo, la nostra esistenza. Ma andiamo a vedere adesso il resto della casa dei Pop James. Ecco, i Pop James sono in quattro e hanno bisogno di tre lavatrici per poter, diciamo, lavare i vestiti, i costumi, i numerosi costumi dei Pop James. Adesso possiamo ammirare, attenzione, qui c'è il garage dei Pop James, dove si allenano, perché mens sana in corpo è sano. Quindi abbiamo qui la panca, la panca dei Pop James. Abbiamo le ciclette dei Pop James, che sono delle biciclette vere, ma sono delle ciclette. Perché noi non siamo dei poser, siamo seri. E poi cosa abbiamo qui? Saliamo nella casa dei Pop James. Attenzione. Qui. Attenzione qui alle scale, mi raccomando. Le scale dei Pop James. Buongiorno a tutti i Pop James. Sto facendolo vedere la casa dei pop james Sì, si è! Senta eliminare l'ordine e la creatività dell'uomo E vabbè, i genitori dei pop james sono imbarazzati Questo è il salotto dei pop james Sono fratelli Poi va, possiamo mirare Attenzione, attenzione, adesso saliamo Nella stanza della riflessione dei pop james Andiamo qua Attenzione Questa è la stanza segreta dei pop james Guarda qua Perché una stanza segreta dei pop james deve avere tanta creatività attorno Deve esserci caos Per poi mettere ordine Cosa che abbiamo qua? Poi ho qui una chicca Ho una chicca amici Contro luce Venite da ammirare Amici Luce dei pop james, questa è la terrazzina dei pop james Qui soprattutto Abbiamo il simbolo della copertina dell'album dei pop james Guardate qui È un disco questo Si screccia E quindi questa è diciamo la nostra vita E' questo che ha permesso di creare i pop james Di creare questa grande famiglia Con dei genitori anche Perché noi abbiamo anche dei genitori, noi pop james Abbiamo anche Abbiamo anche Abbiamo anche Una cultura alle spalle Abbiamo anche Abbiamo tanto Dietro i pop james I pop james non sono solo una famiglia Sono anche una filosofia Quindi Noi crediamo molto ai pop james E credete anche voi ai pop james Ciao